Strepitoso successo per i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima Dolorata Torrenova, ultimo evento del cartellone estivo. Le celebrazioni si sono aperte sabato 14 settembre con il rito della vestizione della Vergine nel tardo pomeriggio, la Santa Messa e la successiva processione del simulacro, oggetto di recente restauro per le vie cittadine. La serata di sabato si è conclusa con la prima edizione del concorso IEV Dream, realizzato con il contributo delle attività commerciali torrenovesi. Sul palco 21 giovani artisti giunti dall'Interland Nebroideo, studenti delle più rinomate scuole ed accademie del comprensorio che si sono sfidati nelle categorie di canto, strumentale e danza. Vincitrice della categoria danza la piccola Alessia Miceli di Torrenova, nove anni, ballerina dello studio Dance & Sport di Torrenova. Per il canto si è imposto Lorenzo Pulella, 17 anni, di Capodorlando, studente di canto dell'Accademia della Musica di Capodorlando e di chitarra con l'associazione Giuseppe Verdi di Sant'Agata Militello. Per la sezione strumenti con un'impeccabile esibizione al pianoforte primo classificato Lorenzo Pizzino, 15 anni di Capodorlando dell'Accademia della Musica orlandina. Ai vincitori è stato conferito un premio in denaro e una borsa di studio per incentivare a proseguire la carriera. Nella mattina di domenica 15 i festeggiamenti hanno raggiunto il culbine con la consegna delle chiavi della città a Maria Santissima da parte delle autorità civili, la celebrazione della Santa Messa, ufficiata dal Vescovo Monsignor Guglielmo Giambanco e la solenne processione per le vie del centro. A chiudere la festa è il concerto del guru della musica pop italiana Roby Facchinetti, che ha richiamato migliaia di persone in Piazza Autonomia. Un concerto che ha confermato la grande presenza scenica e l'inconfondibile impronta vocale dell'ex dei Pooh, che ha cantato tutti i più grandi successi della band. Grazie all'impegno e alla dedizione del Comitato per i festeggiamenti, alla fattiva collaborazione di Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Gruppo Comunale di Protezione Civile. Stewart, addetti antincendio al personale medico e ai loro assistenti, la manifestazione si è svolta in sicurezza e fluidità. Di grande impatto infine lo spettacolo pirotecnico conclusivo, sia per la durata che per i numerosi effetti speciali a sorpresa.